di stazione avviata buongiorno segretario buongiorno colleghi oggi ventidue ottobre diamo inizio alla saluta della quarta commissione consigliare segretario la prego di chiamare l'appello sì presidente cancilla buongiorno presente buongiorno di pisa buongiorno a tutti presenti buongiorno orlando buongiorno presente buongiorno randazzo buongiorno presente buongiorno inzerillo presente presidente cinque su cinque verificato il quorum strutturale dichiaro aperta la seduta vedo che si è collegato l'assessore mattina buongiorno assessore le diamo il benvenuto buongiorno stavo accendendo il microfono buongiorno a tutti come da consuetudine le devo chiedere il consenso alla videoregistrazione do il consenso alla videoregistrazione grazie assessore assessore noi oggi abbiamo l'abbiamo convocata per parlare della situazione dell'ex ompi eh situazione ovviamente che lei sta gestendo insieme al al vice sindaco almeno queste sono le notizie che noi abbiamo e eh a tal proposito avevamo chiesto intanto ci scusiamo per non aver potuto partecipare ad una ad un invito che lei ci aveva a ci aveva fatto perché come lei sa avevamo contemporaneamente consiglio comunale non quindi non c'è stato possibile partecipare quindi a seguito di questa riunione eh la collega Cancilla mi chiedeva ovviamente di eh convocarla qui in commissione per avere notizie sul eh sulla situazione attuale eh io prima di dare la parola dare la parola alla collega Cancilla se vuole ovviamente fare qualche domanda specifica o vuole integrare quello che io ho appena detto e poi le darei la parola per eh avere diciamo un quadro generale su questa su questa struttura dell'ex-HOMPI consigliera Cancilla prego buongiorno assessore buongiorno colleghi eh assessore noi già abbiamo affrontato la questione numerose volte l'ultima volta c'è stato anche un incontro in videoconferenza dove comunque abbiamo un po' così illustrato la situazione attuale mancava la possibilità di poter dare a tutti la possibilità di ascoltare diciamo quello che riguarda appunto le ex-HOMPI ehm da lei stesso quindi io la prego di eh così fare una panoramica rispetto a quelle che sono le problematiche di questa struttura sì allora buongiorno a tutti ehm sento molto male non però provo a fare una sintesi se eh se ci sono difficoltà poi casomai insomma possiamo integrare con domande e richieste eh è l'ultimo incontro che si è svolto in videoconferenza anche la presenza del vice sindaco abbiamo provato a definire una serie di passaggi per raggiungere gli obiettivi che avevamo fissato anche insieme alla commissione eh il vice sindaco anche eh ripeto in questo periodo dove eh eh siamo ancora in una situazione un po' complessa rispetto a l'organizzazione a ancora al covid a a a a si è impegnato ad attivare eh quello che avevamo già programmato nel mese di gennaio prima che scoppiasse la pandemia per la sistemazione di tutti gli spazi esterni e quindi riconsegnare al quartiere eh il giardino pulito sistemato eh per poter permettere ai bambini, alle famiglie, ai ragazzi, ai nonni del quartiere di utilizzare quegli spazi esterni liberandoli da tutte le cose improprie che sono presenti in quel in quel in quegli spazi e di sistemando gli aiole, gli spazi verdi eh concedendo l'accesso alla scuola che ha avrebbe anche necessità eh anche in questo momento di avere anche ulteriori spazi anche all'esterno per fare attività con i bambini eh di sistemare tutto il corso tutta la parte esterna che in parte era crollata eh AMG ha già fatto tutti i preventivi e tutte le eh tutte le attività propedeutiche per installare eh l'illuminazione all'interno di quegli spazi eh separare in maniera non eh maniera semplice eh la parte dove c'è eh ci sono le abitazioni eh da tutto il resto del giardino e dare questi spazi in utilizzo alla alla quartiere a chi vive eh in quella parte della città al tempo stesso tutti i locali legati alla 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 eh anche quelli di magazzini legati alla chiesa eh sono stati liberati e dovrebbero essere dati in concessione alla parrocchia in questo momento come dicevamo anche la settimana scorsa ci sono una serie interlocuzioni tra il patrimonio eh che sta anche qui il patrimonio in questo momento è in una fase un po' complicata deve definire una serie di procedure rispetto ad altri dico anche partecipando al consiglio comunale insomma in questi giorni anche voi avete visto insomma una serie di attività eh ce ne sono altre che oggi stanno stanno portando a termine e come sapete anche gli uffici sono anche un po' tutti in sofferenza ma eh dovremmo definire prima possibile eh la concessione degli spazi eh religiosi eh alla parrocchia gli spazi che erano stati occupati sotto la parrocchia mi risulta almeno fino alla settimana scorsa essere stati liberati proprio per poterli mettere nella disposizione della parrocchia. Il comune ha predisposto un progetto eh l'attività eh l'assessorato delle attività sociali del comune ha predisposto un progetto per creare all'interno di di quegli spazi utilizzando i locali della vecchia eh postazione anagrafica che in questo momento è stata occupata ma recentemente che stiamo attivando tutte le procedure per poterla rendere disponibile in tempi brevissimi eh per poter creare in quei luoghi utilizzando eh gli altri spazi comuni eh tra cui in prima in la parte principale l'ex postazione grafica ma anche gli altri spazi che sono di contorno e che sono lì un centro per bambini e famiglie che ha trovato una la propria possibilità di finanziamento all'interno dei fondi legati all'infanzia e all'adolescenza è stata predisposta la scheda eh ora poi magari ne parleremo un po' meglio rispetto a questo tema eh magari anche di un altro setto però l'idea è quella eh di eh mettere eh in tempi ripeto molto brevi quindi nei primi mesi dell'anno prossimo attivare lì un centro che non è soltanto per le famiglie dell'exompi che hanno occupato ma è per tutto il quartiere rivolto ai bambini e le famiglie le mamme con attività sia di mattina che di pomeriggio e quindi sono state attivate tutte le procedure per liberare quello spazio e avere la disponibilità di questo ma anche degli altri eh che sono ripeto i spazi comuni per poter fare questo tipo di attività. L'altra cosa che abbiamo deciso in quella riunione è completare il percorso delle residenze delle persone che hanno occupato perché questo ci permette poi di fare tutti gli altri passaggi successivi e anche qui il vice sindaco che è anche assessore all'anagrafe eh ha chiesto di predisposte tutti gli atti per poter chiudere eh questa situazione che ripeto è propedeutica anche ad attivare eh eh altri passaggi eh io ho già autorizzato la possibilità di simulare contatti elettrici con l'energia elettrica proprio per e anche qui Enel ha già fatto tutti i passaggi necessari eh proprio per evitare che eh possa esserci accesso non autorizzato alla luce e all'acqua e quindi provare a cominciare no come già questa parte è iniziata molti hanno già stipulato il contratto quindi provare a regolarizzare eh questi aspetti legati all'autenza perché era improponibile che eh eh continuare come sia andata avanti per per anni e quindi questa parte è già partita e già a buon punto rispetto alla regolarizzazione delle utenze e degli aspetti anagrafici. Penso di avere riassunto la riunione l'altra mattina anche se brevemente però eh siccome sia eh il consigliere andato che la consigliera cancilla sono presenti ritengo di non avere dimenticato di non aver dimenticato niente del dell'incontro di un'altra mattina. Assessore posso farle due domande? Certo sono qua per questo. Allora rispetto alle famiglie che hanno occupato eh l'immobile ultimamente eh a lei risulta che diciamo erano anche i familiari che avevano già fatto richiesta eh di una casa e comunque il comune può dare loro diciamo un'alternativa al questa occupazione abusiva quindi fornendono cioè un contributo per un affitto o qualcosa altro? Allora questa cosa va al allora i i locali occupati ultimamente e sono soltanto uno quello dell'ex postazione anagrafica perché eh di tutte le altre occupazioni noi abbiamo cristallizzato ormai un anno e mezzo fa la situazione e non abbiamo intenzione di cambiarla cioè eh con la polizia municipale con l'anagrafe con tutti gli organi competenti abbiamo cristallizzato una situazione eh circa un anno fa e quella è eh e non mi risultano che ci sia almeno un po' per carità che ci siano stati cambiamenti l'ultimo l'ultima occupazione riguarda soltanto l'ex postazione anagrafica quindi soltanto una una famiglia ehm a questa famiglia è stato già detto e ve l'ha ripetuto in tutti i modi possibili che eh ripeto quella non rientra nella fotografia che noi abbiamo fatto un anno fa e che può accedere come tutte le famiglie che sono in difficoltà abitativa a tutte le misure di sostegno all'emergenza abitativa che noi abbiamo messo in campo eh che in questo momento sono operative eh la settimana scorsa eh la settimana scorsa la chiedo scusa due giorni fa abbiamo iniziato anche l'erogazione dei contributi diretti per il pagamento dell'affitto e per cui eh la prima famiglia ha usufruito dell'affitto pagato dal comune è proprio eh la determina di pagamento è proprio di l'altro ieri quindi quella famiglia eh in base a quanto dice regolamento che abbiamo approvato tutti insieme quindi quella anzi avete approvato voi per essere precisi più che tutti insieme eh eh quindi quella famiglia potrà usufruire eh dovrà lasciare quell' immobile che quella quella parte è destinata a bene comune e a servizi per tutta la città quindi non è possibile che quel posto sessi occupato questo l'ho detto e spero di essere stato il più chiaro possibile ma quella famiglia se è realmente in emergenza abitativa come ritengo che sia se no non non sarebbe lì eh avrà tutti gli aiuti che noi proviamo a dare in questo momento a centinaia di famiglie che vivono a Palermo e che sono in situazione di emergenza abitativa e quindi mi scusi rispetto allo spazio dell'ex teatro che ormai chiaramente forse non è più neanche riadattabile la sua vecchia funzione no però sia sul teatro chiedo scusa scusa ho interrotto chiedo perdono prego prego no volevo capire se comunque c'era in un programma una nuova progettualità anche con altri fini o comunque no lo lasciamo allora gli spazi no no gli spazi comuni che sono in quel posto sono essenzialmente tre gli spazi legati al teatro gli spazi legati all'ex postazione anagrafica che erano eh più che postazione eh all'inizio erano luogo di di centro di prossimità e tutti i locali legati alla chiesa e ai locali attivi alla chiesa e il giardino l'impegno che io eh ribadisco eh su cui eh per carità se non ci fosse stata tutta la pandemia come per altre cose probabilmente saremmo a uno stato avanzato l'impegno è che questi luoghi devono essere restituiti in tempi brevissimi a tutto il quartiere di questi posti il giardino e la e la chiesa sono eh in sono immediatamente attivabili le procedure eh io il vice sindaco si è impegnato eh la settimana scorsa nell'arco di un mese a fare tutta una serie di attività che servono a fare questo eh in quanto assessore al decoro utilizzando il coima e tutte le maestranze comunali ehm eh la postazione grafica e i tempi eh per la postazione grafica e per l'ex teatro i tempi eh che abbiamo che abbiamo messo in cantiere sono i primi mesi del prossimo anno eh attivando questo centro dove le famiglie ripeto sia che abitano lì ma che abitano tutto il quartiere possono avere questo luogo sia la mattina per le mamme per le nonne eh sia il pomeriggio per i bambini per fare attività eh scolastica dopo scuola ripeto sperando che questa crisi epidemiologica finisca e ci permetta di ritornare a un assetto eh che ci faccia prendere carico delle persone in difficoltà con più dinamici dinamicità eh attivare questo eh i tempi che abbiamo eh li abbiamo i tempi se non se non accade niente dovrebbero essere questi abbiamo individuato le risorse dobbiamo eh liberare gli spazi che sono occupati da provando a dare soluzioni alle famiglie ma sono soluzioni diverse perché da una parte c'è una famiglia che sta lì da tempo in memora e quindi va seguita una procedura dall'altra parte c'è chi ha occupato eh da poche settimane e va seguita un'altra procedura perché eh non era tra le famiglie che erano state cristallizzate che erano lì da dieci anni e che avevano fatto un'attività quindi abbiamo nei posti fatti specie diverse che stiamo affrontando in maniera diversa anche nel rispetto della storia delle persone delle fatiche che che abbiamo fatto in questi anni per risolvere la questione quel luogo doveva l'ex circoscrizione doveva restare pubblico perché c'era un impegno di tutti anche delle famiglie attorno a vigilare perché non fosse occupato e quindi poi è stato occupato e quindi va liberato perché eh c'è un impegno complessivo dall'altra parte c'è chi ci abita da sette otto nove anni o giù di lì e quindi dobbiamo a trovare a trovare una soluzione che permetta anche a quella famiglia di stare eh adeguatamente in un posto quindi abbiamo sin dall'inizio eh elaborato modalità di azione diversa proprio perché sono due due storie diverse che hanno una storia diversa e che vanno affrontate eh separatamente non non so se sono riuscito a essere chiaro. Sì assessora a me sembra una diciamo una buona idea quella di ehm progettare un punto un centro rivolto a famiglie, mamme, bambini perché in effetti all'interno di quel territorio manca una struttura che fornisce questo tipo di servizi e le chiedo questo progetto si può eh visionare? Certo eh allora eh se ehm allora noi se se la commissione lo si tiene lo si tiene opportuno noi potremmo fissare una data la settimana prossima e ehm vi vi faccio inviare eh tra domani e lunedì mattina le boz del piano che abbiamo che gli uffici hanno elaborato eh per eh l'utilizzo dei fondi di contrasto alla povertà rispetto alla quota servizi gli uffici eh in attesa che la regione siciliana elabori il proprio piano di contrasto alla povertà per il 2019 per il 2020 hanno noi abbiamo già elaborato seguendo le indicazioni del ministero visto che quelle della regione ancora non sono arrivate abbiamo elaborato il piano per l'utilizzo di questi fondi che evidentemente sono in bozza perché stiamo aspettando che la regione cosa che dovrebbe accadere mi dicono tutti nei prossimi giorni ma ancora non 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 è accaduto dovrebbe approvare in giunta eh il piano regionale e poi i distretti approvare il piano distrettuale noi abbiamo già predisposto il nostro piano distrettuale immaginando quello che sarà quello regionale perché si rifà quello nazionale scusate il giro di parole eh non so se sono stato chiaro però insomma eh e noi abbiamo già elaborato una bozza all'interno di questo piano che noi eh che è il distretto sociosanitario dovrà approvare eh nelle prossime nei prossimi giorni all'interno abbiamo immaginato per ogni circoscrizione più centri indirizzati alle famiglie che poi verrà eh che poi dovrebbero essere saranno attivati io vi faccio inviare per lunedì mattina eh entro lunedì mattina la bozza di questo piano eh e poi ci possiamo incontrare anche la settimana prossima insieme alla dottoressa Ferreri o alla dottoressa Priolo che stanno seguendo questo aspetto più specifico per insomma presentarlo o per raccogliere eh raccogliere suggerimenti tenendo conto che comunque è un'azione distrettuale non soltanto del comune di Palermo perché dentro ci sono tutti i comuni che compongono il distretto sociosanitario di Palermo gli altri otto comuni e c'è anche l'ASPO perché il piano è eh che noi abbiamo elaborato riguarda sia i comuni sia gli altri otto comuni quindi Morale, Santa Cristina, Villa Abate, eh piano degli Albanesi, eh Lampedusa, Linosa, Ustica e Altofonte. Eh quindi il piano è complessivo ed è elaborato insieme al distretto al distretto sanitario dell'ASPO perché ha anche un anche una valenza eh rispetto all'attività sanitaria che fa l'ASPO. Quindi noi l'abbiamo predisposta in Bozza, ve lo eh il comitato dei sindaci del distretto sociosanitario eh lo analizzerà per la prima volta venerdì prossimo perché è stato convocato il comitato dei sindaci per venerdì prossimo per dare una prima vedizione, una prima analisi del piano che abbiamo predisposto per tutti i comuni. Dico vi faccio inviare la bozza entro lunedì così anche voi potete vedere eh come è stata immaginata questa programmazione che però ripeto ancora deve avere deve passare al vaglio del comitato dei sindaci e eh e alla verifica complessiva di a a congruità rispetto al piano regionale. Anche qui spero di essere stato chiaro perché ogni tanto mi perdo pure io in tutte le procedure che bisogna seguire. Grazie Assessore, io ho un'altra domanda grazie. Grazie consigliera Cancilla, grazie Assessore, è stato chiarissimo. Io vorrei dare la parola ai colleghi se hanno esigenza ovviamente di farle qualche altra domanda eh in merito ovviamente a questa questo tema. Eh qualora i colleghi non avessero domande da farle? Le chiedo con molta serenità ovviamente se lei ha ancora dieci minuti a disposizione. Io le volevo fare una domanda che non riguardava l'ex domanda. Eh ti devo chiedere come avvengono eh le associazioni cittadine che hanno dei beni del comune che non sono confiscati quindi il comune decide di affidarli. C'è una legge che prevede che queste associazioni possano avere eh avere gratuitamente incomodato questo bene? Esiste un regolamento comunale che eh anche questa non è in materia del sottoscritto e del patrimonio però rispondo con molta semplicità. Ehm esiste un regolamento comunale che dice ehm se riesco a interpretare la domanda che dice eh che dice quello che sto velocemente a riassumere. Ehm per tutti i beni il cui valore del presumibile affitto è inferiore a 10.000 euro il patrimonio può eh direttamente predisporre l'affidamento o l'affitto o la concessione di questi beni direttamente a chi lo chiede. Quindi c'è un un locale, un luogo eh qualunque sia la finalità per cui viene fatta la perizia del valore eh o di quanto è l'affitto ai prezzi di mercato da tecnici, dalla commissione perché esiste una commissione specifica su questo. Se il valore viene definito a meno di 10.000 euro eh può essere dato direttamente. Il regolamento prevede che se le associazioni, gli enti in maniera particolare, quelli senza scopo di lucro evidentemente non a fini commerciali, svolgono un'attività a favore della città eh una parte dell'affitto può essere scomputato in servizi che vengono avvesi. Eh dietro dell'azione sul valore dei servizi resi eh e dietro dell'azione dei servizi sociali che dicono che realmente il servizio è stato avveso. Quindi riassumendo, se c'è un locale che ha un valore inferiore a 10.000 euro l'anno di affitto e che fa un doposcuola per bambini eh se ha meno di 10.000 euro di valore, se si fa il doposcuola. Eh l'affitto può essere abbattuto in tutto e in parte eh facendo questo tipo di attività, può essere compensato facendo questo tipo di attività che però deve essere eh come dire, deve avere deve essere certificato, c'è un tecnico che stabilisce. Ma e sopra i 10.000 cosa cambia? Che deve essere affidato totalmente? Sopra i 10.000 esattamente sì. Sopra i 10.000 deve essere fatto un avviso, un avviso, un avviso pubblico per individuare chi è disponibile alla gestione. Eh regolamento è, come si chiama il regolamento per la gestione dei beni immobiliari, no? Sì 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 penso che sia quello. Poi per carità dico io ho riscontrato eh nel corso di questi di questi anni e magari affidamenti molto eh di risalenti magari a tempi precedenti al regolamento che hanno continuato perché sono stati rinnovati. Ma ad oggi mi risulta che l'unica possibilità eh per avere un affidamento, un contratto di affitto o qualunque strumento sia sia eh lo strumento sia questo. Va bene, grazie mille. Per i beni di proprietà comunale evidentemente. Certo, certo, certo. Ci sono altre domande per l'assessore mattino posso posso procedere io a farne qualcuna. Sì sì ti autorizzo, prego presidente. Grazie consigliere Randazzo. Eh assessore io le volevo chiedere questo. L'altro l'altro giorno ho avuto mi ha chiamato una persona che a quanto pare eh lamentava il fatto che eh i cittadini non fossero informati o comunque non sanno se è stata riaperta la possibilità di chiedere i servizi di assistenza domiciliare. Perché mi diceva ma questo lo sapevamo perché ne abbiamo parlato diverse volte con lei che ovviamente l'accredito per quanto riguarda le strutture, associazioni cooperative eccetera eccetera è sempre aperto ma questo diciamo è una cosa che ci siamo detti più volte. Però a quanto pare eh forse non c'è la possibilità a che i cittadini possano richiedere il servizio in questo momento. Siccome come lei sa io sempre diciamo recepisco le informazioni sempre col beneficio del dubbio e poi chiedo a lei eh in realtà poi l'Umi sulle sulle varie vicende. Le chiedevo un po' qual era la situazione eh in merito a questa richiesta che mi era stata fatta. Allora sulla parte degli enti ecco assolutamente come dice lei presidente quindi non mi ci soffermo sulla parte del del dell'utenza allora i servizi domiciliari sono di vari tipi eh quindi bisognerebbe capire di quale tipo di servizio domiciliare parliamo nello specifico. I servizi ehm ehm quali sono quelli che? Prova andare sì 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 provo andare con ordine. I servizi per le persone con disabilità. Quest'amministrazione dico questa perché eh cosa eh recente di questi ultimi anni ha fatto una ha fatto una scelta. Ha ha deciso di non attivare più servizi domiciliari per i disabili esclusivamente come servizi domiciliari eh quindi solo servizi domiciliari ma ha attivato tutta una serie di procedure perché le persone con disabilità devono essere presi in carico essenziale articolo quattordici quindi noi diciamo a tutte le persone con disabilità che hanno eh che potrebbero avere dei servizi col comune che devono richiedere un progetto personalizzato ex articolo quattordici che va alla valutazione dell'UVM che è un un ufficio sia dell'ASP che del comune e in base alla valutazione al progetto viene definita l'attività che deve essere che deve essere svolta. Abbiamo mantenuto i servizi domiciliari per circa un centinaio di persone con disabilità che sono persone con disabilità ehm eh che hanno un servizio da tantissimo tempo che sono quasi tutti no tutti non autosufficienti e per cui l'introduzione di quel servizio avrebbe creato grave documento alle persone ma tutti quelli nuovi eh li attiviamo soltanto all'interno di un progetto personalizzato non attiviamo soltanto l'assistenza domiciliare se poi nel progetto personalizzato c'è solo l'assistenza domiciliare è una scelta che si fa complessivamente però all'interno di un progetto. Tutti i progetti qua mai hanno soltanto l'assistenza domiciliare ma prevedono anche altri tipi di attività. Eh eh i servizi. Prese in carico di cui abbiamo più volte. Esattamente. esattamente. Quindi se oggi viene una persona con disabilità che dice io voglio quattro ore di assistenza domiciliare noi diciamo fai la richiesta per il progetto personalizzato. Poi una volta che viene elaborato è evidente che ci sarà anche quella. Tranne per questo centinaio di persone che ripeto hanno l'assistenza domiciliare da 15-20 anni che non è stata interrotta perché avremmo procurato un danno enorme a queste persone. Anche se la stiamo integrando dentro i progetti personalizzati che man mano queste persone hanno chiesto e stanno chiedendo. Certo. Assessore, riguarda l'ADI. Sì, no, chiedo scusa. No, 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 chiedo scusa. Io no, prego, prego. Per quanto riguarda l'ADI. L'ADI come sapete è un servizio integrato, ASPO comune. Questo servizio è sempre attivo perché è un servizio sociosanitario. Questo però è un servizio a copartecipazione. Quindi faccio un esempio. Una persona ha un incidente ha diritto ad avere l'assistenza domiciliare a casa o perché sta male o per tutta una serie di motivazioni. L'ASPO manda l'infermiere, il fisioterapista a casa e il comune dovrebbe mandare la parte sociale. Quindi l'assistenza domiciliare, la pulizia, soprattutto una serie di servizi che integrano la parte sanitaria per chi è bloccato a casa che non può fare le cose. Però questo servizio è a copartecipazione, cioè nel senso che l'utente in base al reddito, me lo dice la norma, la legge, non l'abbiamo deciso noi, in base al reddito deve compartecipare a questo servizio. Quindi noi lo paghiamo tutto per intero agli enti e poi queste persone devono pagare al comune la parte di copartecipazione. Come avviene per elementi a scuola dei bambini, per capirci, dico per fare un esempio a cui magari siamo un po' più abituati. Il comune paga la ditta che vince l'appalto per i passi e poi le famiglie integrano in base al reddito che hanno, di sé che hanno. E la stessa cosa vale per l'ADI. Le richieste di questo servizio sono molto basse perché quando le persone scoprono che devono compartecipare, preferiscono non averlo. Proprio lo rifiutano perché ritengono che sia da sole oppure chiamare un abbadante H24 costa meno che compartecipare al servizio del comune. Il che forse è anche vero, ma le tariffe non le stabiliamo noi e poi il servizio pagato dal comune sarebbe regola con tutti i contributi pagati eccetera eccetera. Molto spesso, senza dare giudizi di natura etica ma semplicemente di descrizione, molto spesso questi servizi pagati direttamente dall'utente invece sono pagati in nero. Per questo costano di meno, perché i costi del lavoro siano differenti. Però al di là delle mie valutazioni che sono personali e vi prego di mantenerle come valutazioni personali, non è un servizio che ha grossi numeri. Proprio perché immaginate che abbiamo fatto una verifica qualche giorno fa, saranno sette otto le persone che hanno ricevuto questo servizio negli ultimi tre mesi, perché tutte le altre che ne avrebbero avuto diritto, dovendo partecipare con una quota che hanno ritenuto troppo alta, non l'hanno voluto. Chi invece ha un i6-0 e che quindi ce l'ha totalmente gratuito, invece il servizio lo fa. Servizi invece per gli anziani, finisco così a tutta la caratteristica. Noi i servizi domiciliari per gli anziani in quanto anziani, perché poi noi abbiamo gli anziani che sono anche persone con disabilità e quindi la prevale aspetto persone con disabilità e quindi rientrano nell'altra fattispecie, in questo momento noi non abbiamo servizi di assistenza domiciliare per gli anziani, perché teoricamente non è un servizio obbligatorio, quindi andrebbe fatto con fondi comunali e non ci sono fondi comunali per farlo. Si sono interrotti nel mese di agosto dello scorso anno perché noi negli ultimi due o tre anni credo sono stati finanziati con un trasferimento diretto dello Stato, il famoso PAC anziani, piano che il governo ha messo in campo per aumentare i servizi per gli anziani. Terminate quelle risorse, quel trasferimento da parte dello Stato specifico per fare questo, non essendo un servizio obbligatorio, perché, ripeto, ma sto parlando di anziani autosufficienti evidentemente, non quelli non autosufficienti che rientrano in un'altra fattispecie, quel servizio si è interrotto e non è ripreso, perché il Comune non ha, ripeto, non ha risorse proprie per fare questo servizio, l'abbiamo programmato nei prossimi finanziamenti nazionali che devono arrivare, ma ancora i finanziamenti da questo punto di vista non sono ancora arrivati, quindi in questo preciso momento, a meno che, ripeto, non c'è un'emergenza, una situazione in autosufficienza, una fatica particolare. Durante il Covid noi abbiamo attivato tante assistenze domiciliari per persone anziane, ma giustificate dal fatto che essendo il lockdown le persone anziane erano da sole, non riuscivano a fare tutto quello che serviva ed era meglio che, per esempio, non uscivano a fare la spesa, evitavano i contatti, quindi l'abbiamo attivata in via straordinaria utilizzando le risorse di sostegno alle persone in difficoltà a causa della pandemia, ma è anche qui una fattispecie diversa. A regime in atto non c'è un servizio domiciliare per gli anziani autosufficienti. Presidente, una domanda la posso fare? Scusami Carlo, così finisco il mio intervento. Questi servizi domiciliari, quindi per le persone con disabilità, in base all'articolo 14, ci devono chiedere la presa in carico al comune. Materialmente questa è una richiesta a chi devono farla? Allora, la norma... Dove devono recarsi materialmente? Non serve recarsi in nessun posto, basterebbe mandare una lettera, una mail, qualunque richiesta, c'è un modulo che è sul sito del comune che va compilato e può essere inviato in qualsiasi modo la persona lo ritiene più adeguato. Se ha la possibilità di fare una mail, una mail, di portarla a qualsiasi protocollo delle circoscrizioni, lo può portare a qualsiasi protocollo delle circoscrizioni, tanto poi arriva nel posto dove deve arrivare. Anche qui la norma è richiesta a progetto personalizzato. Ora, non sono davanti a un computer che sono collegato col cellulare, quindi vi chiedo scusa, ma ve lo posso recuperare e far arrivare. Sarà qualcosa di simile, è facilmente ritrovato. Sì, sì, sì. Il problema è che tutti lo mandano sia all'ASP che al comune, perché siccome la richiesta riguarda entrambi gli enti, tutti per sicurezza lo mandano sia all'ASP che al comune. Teoricamente basterebbe mandarlo a uno soltanto dei due enti. L'ASP ha i punti unici di accesso, i famosi PUA, diffusi sul territorio, almeno uno per ogni distretto che c'è in città, quindi può essere lasciato indifferentemente, consegnato indifferentemente, o mandato per posta, o mandato per mail, o all'ASP o al comune, perché poi l'ente che lo riceve attiva tutte le procedure, perché comunque le procedure sono comuni, verranno fatte assieme, quindi può essere inviato, ripeto, anche semplicemente all'ASP e poi l'ASP fissa la visita a l'incontro con l'unità di valutazione, oppure al comune, e poi ci pensa il comune a fissare l'incontro, o come fanno tutti, lo mandano a tutte e due, così, ma non serve. Tecnicamente non serve. Se tutto va bene, noi la settimana prossima iniziamo la formazione congiunta, operatori del comune, operatori dell'ASP, perché attraverso l'utilizzo anche qui di fondi comunitari, con un progetto finanziato all'assessorato della salute, e quindi un finanziamento gestito direttamente da ASP 6, ma ASP 6 non in quanto ASP 6, in quanto capofila di tutte le ASP della Sicilia, verranno creati la gestione comune di tutte le schede e di tutti i servizi sociosanitari di tutte le persone, quindi ci saranno punti unici di accesso comune e ASP comune, la scheda sanitaria sarà comune tra, sociosanitaria sarà comune tra comune e ASP, cioè l'operatore del comune vede gli aspetti sanitari, quello dell'ASP vede anche gli aspetti sociali e la gestione sarà anche informatica, sarà immediata da parte di tutti gli sportelli. Gli operatori stanno facendo la formazione per utilizzare questo programma, il primo distretto di tutta la Sicilia in cui partirà questo modello è Palermo, SISPI sta integrando il sistema insieme agli operatori dell'ASP, la settimana prossima parte la formazione per gli operatori comunali e per gli operatori dell'ASP per utilizzare questo sistema integrato di presa in calico, che ripeto è anche informatico con la cartella sociale, la cartella sanitaria, l'accesso ai punti unici, le richieste immediate, la valutazione dei costi progetto per progetto, perché il programma fa anche questo, che è anche un gestionale, non è soltanto una cartella, quindi permetterà anche di fare la gestione economica di ogni singolo progetto personalizzato, è un progetto a cui, ripeto, anche se ha titolarità sanità, ma è un progetto a cui il sottoscritto crede molto perché semplificherà notevolmente tutte le procedure e il cittadino con chiunque parla non deve farsi il giro delle sette chiese, ma può andare o al Comune o all'ASP. Questo è stato possibile in virtù del regolamento sull'inclusione sociale che abbiamo approvato in aula qualche mese fa? Questa parte che riguarda la parte informatica era già attivo, è evidente che il regolamento facilita i percorsi, non c'è dubbio. La parte informatica, la parte del progetto personalizzato. Certo, assolutamente sì, perché l'abbiamo definito una volta per tutte che l'unico modo di prendersi carico delle persone fai un progetto, dove dentro c'è tutto. Allora, io non voglio fare qui il sociologo, i bisogni, una persona viene in un luogo, si rivolge a un servizio perché pensa di avere un bisogno, è responsabilità del luogo a cui si rivolge, non solo provare a rispondere a quel bisogno concreto, ma provare ad attivare tutte le procedure per capire qual è la realtà di quella persona o di quella famiglia ed attivare tutte le risorse possibili. Io vado in uno spostello perché non riesco a pagare l'affitto. La responsabilità del progetto personalizzato non è di pagare solo, di pagarti l'affitto, ma anche di aiutarti a trovare il lavoro per pagartelo tu. Averlo sancito in un regolamento, questo principio è strategico, importante, non è il desiderio dell'assessore o del consigliere o del presidente che vuole fare una cosa. È norma perché tutto il comune deve fare questo. Per questo è importante averlo definito in un regolamento. Che noi moriremo ma resterà lo stesso regolamento. più tardi possibile. Punti di vista. Ma sta facendo pubblicità occulta in questo momento consiglio. Se c'è il simbolo di Italia Viva in prima, vediamo soltanto il simbolo di Italia Viva però. Ah scusa. No è una battuta, sto scherzando. Sto scherzando. era una battuta. È perché c'è un problema cimiteriale, non peraltro. Ah ho capito. Presidente, volevo fare quella domanda. Sì Carlo, un'ultimissima cosa e ti do la parola. Volevo chiedere all'assessore, dato che comunque abbiamo votato questo regolamento e parliamo appunto di questi progetti personalizzati, se comunque ad oggi abbiamo un numero di quanti progetti sono partiti di questo tipo. Dovrebbero essere circa 200 in questo momento operativi rispetto alle persone con disabilità, rispetto all'agenzia sociale per la casa dovrebbero essere una novantina già attivi, 92 dovrebbero essere e circa 200 quelli per le persone con disabilità, uno più uno meno, ma i numeri dovrebbero essere questi. Ma a parte diciamo le persone con disabilità è l'agenzia sociale per la casa, persone ovviamente che hanno difficoltà, che non hanno lavoro, che hanno comunque un carico familiare eccetera eccetera, non ne sono partiti progetti di questo tipo. O di entrano in quelli dell'agenzia sociale per la casa. Allora noi abbiamo in questo momento tre, per esempio, abbiamo attivi, ora anche qui il numero prendetelo con un inventario, però se invitiamo, se in quell'incontro che faremo c'è anche la dottoressa Priolo, penso che potrà dare tutti i numeri esatti al millesimo, dovrebbero essere circa 300 i progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo che già abbiamo attivato, dove dentro ci sono tante cose oltre al lavoro. Non capito. Assessore, io do subito la parola al consigliere di Pisa prima che poi si innervosisce. Prego consigliere di Pisa. Non l'ho mai visto nervosa il consigliere di Pisa, io in vita mia penso che non l'ho mai visto. Grazie, poi ti ringrazio con un bel caffè. Grazie. Allora non so se è un'informazione che lei mi può dare, che riguarda la sua delega, però ma se lo sa ce la dia questa informazione, in pratica è questo, la domanda è questa, in occasione della festa dei defunti? Come si comporta l'amministrazione per l'accesso ai cimiteri e ai cittadini? Farà come il tempo addietro, visto che il Covid sta avanzando? Farà con le prenotazioni oppure fare in altra maniera? Se sta l'informazione, solo questo lo sapete. Io le chiedo scusa ma non ne ho idea, io proprio non lo so, io ho certezza che da venerdì l'accesso ai parchi e ai giardini sarà di nuovo con le prenotazioni come è stato fatto qualche mese fa, che il sindaco sta lavorando insieme alla prefettura a un'ordinanza che dovrebbe essere presentata domani, che non è di chiusura totale ma è un'ordinanza che prova a evitare gli assembramenti, quindi le persone possono, al contrario di quello che sta accadendo in altre città, possono uscire, ma non, ora vi chiedo scusa per la battuta, ma non possono stare fermi, cioè nel senso che se noi dobbiamo attraversare una piazza per andare da un posto all'altro, lo possiamo fare, se invece creiamo assembramento o ci fermiamo, questo dovrebbe essere vietato, come dovrebbero ritornare le prenotazioni in tutti i giardini pubblici, le ville, sul modello che abbiamo già sperimentato mesi fa. Sui cimiteri, mi dispiace ma non ho questa informazione. Va bene, grazie, grazie. Prego. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere di Pisa. Assessore, un'ultimissima domanda, almeno per quanto mi ricorda poi ovviamente i colleghi sono liberi di farle le domande, fino a quando lei ovviamente non ci dice che il tempo a nostra istruzione è scaduto perché non vogliamo. Ma non lo farò mai. No, io non vogliamo, soltanto lei è sempre disponibile, se lei ovviamente ha un impegno la liberiamo subito e ci riaggiorniamo per un altro. No, fino alle undici sono libero. Ah, bene. Le volevo chiedere, per quanto riguarda la, a proposito di emergenza sanitaria, per quanto riguarda la situazione all'interno del, della struttura di Pietro Conte. La situazione è migliorata, abbiamo notizie in merito, è sempre una situazione di allarme ed è sempre, diciamo, c'è sempre una situazione di quarantena all'interno di quell'altro. No, allora, non c'è più dentro le strutture, dentro le quattro strutture, non c'è più un'attività di quarantena, eh, già da, dalla settimana scorsa, eh, il Presidente ha totto la zona sossa ed è anche terminata la quarantena. Devo dire, però, per completezza di informazioni, che su due delle quattro strutture non ci sono mai state persone positive, cioè per la struttura che c'è a Villaggio Zuffini, per la struttura che c'è, eh, femminile che c'è in via Garibaldi, eh, eh, anche nella fase più pesante che ha coinvolto le altre due strutture, soprattutto via decollati, in quelle due strutture non ci sono mai state trovate persone che hanno avuto un tampone positivo. Precauzionalmente sono state messe dentro il sistema di tutela, ma, eh, non non ci sono mai state persone positive. In questo momento la missione ha integrato, implementato una serie di misure di sicurezza, eh, specifiche, soprattutto, si ripeto, in via decollati, che è la struttura dove, eh, dove, eh, maggiormente è stata, eh, complicata la gestione. E quindi ha diviso, ha diviso gli spazi, ha creato percorsi specifici, che ha creato una zona grigia e una zona rossa all'interno della struttura. il consigliere di Pisa scusi Assessore il consigliere di Pisa può staccare il microfono per favore il giorno successivo è il 27 luglio non ci sono in atto non ci sono persone positive in nessuna delle quattro strutture la missione ha seguito le indicazioni dell'ASP o sta seguendo le indicazioni dell'ASP ha creato all'interno delle proprie strutture zone grigie e zone rosse e ha implementato le misure di sicurezza per carità la situazione visto anche quello che c'è attorno non va sottovalutata e va tenuta sotto osservazione e vanno implementate tutte le misure però in questo momento nelle quattro strutture la situazione sembra essere da un punto di vista di tamponi di persone positive sembra essere assolutamente sotto controllo e noi stiamo continuando a monitorare le attività in questo momento c'è un presidio di Croce Sossa che è stato attivato dal Comune quindi è un presidio un'attività pagata dal Comune di Palermo che è dentro le missioni e che dà un sostegno sia sociale che sanitario all'attività che fanno le missioni che Croce Sossa come in questo momento sta facendo inviata dal Ministero per esempio all'Hotel Covid o sta facendo all'interno delle navi quarantena che ci sono a largo della Sicilia noi abbiamo dato un'incarica a Croce Sossa per fare la stessa cosa anche all'interno delle missioni l'ha fatto durante la zona sossa quindi con tutte le precauzioni e sta continuando a farlo e penso continuerà a farlo almeno per un'altra quindicina di giorni proprio per aiutare i volontari e gli operatori della missione a implementare tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio Perfetto Assessore un'ultimissima domanda Gianluca Prego Katia Gianluca Prego, prego Katia Scusami giusto per chiudere l'argomento l'argomento appunto in questione Assessore ma poi si è compreso cosa è successo rispetto al rilevamento dei positivi presso la struttura diciamo da numeri impressionanti invece dopo poco c'è stata praticamente non una riduzione ma quasi diciamo un azzeramento dei casi Diciamo allora l'azzeramento dei casi c'è stato anche perché tutte le persone positive sono state trasferite e che poi sono guarite e che ora sono ritornate dentro la missione perché tra ospedali e hotel covid più di una cinquantina di persone sono state trasferite da via decollati per essere portate o all'hotel covid o le strutture sanitarie perché stavano male e che hanno seguito tutto l'iter poi rispetto ai numeri complessivi è evidente che una delle cose che è accaduta ma non l'unica è quella che più persone hanno fatto il tampone più volte e siccome identificarla non era semplice perché immaginate anche la tipologia di strutture anche con tutta la fatica che Don Pino e gli altri operatori della missione hanno fatto era un po' complicato definire identificare tutti cosa che poi è stata fatta è evidente che ci sono state persone che hanno fatto il tampone anche due tre quattro volte indicando nomi diversi su come si chiamavano e quindi questo ha ha fatto aumentare questo è importante come elemento ha fatto aumentare il numero dei positivi in maniera esponenziale nel senso che ora per carità prova a semplificare al massimo ripeto la missione ha fatto di tutto poi a un certo punto quando si è resa conto di questo ha attivato delle procedure di identificazione che hanno permesso di chiarire quello che stava accadendo ma c'erano quattro persone che si chiamavano in modo diverso tre non volevano fare il tampone neanche morte per tutta una serie di motivi avevano paura allora ci andava la stessa persona dicendo di chiamarsi in quattro modi diversi magari quella persona era positiva e quindi è risultata positiva quattro volte ma era sempre la stessa persona dopo che ci si è accorti di questo fenomeno che è accaduto la prima volta anche perché c'erano quattro usca all'interno ed erano all'inizio tutti anche un po' presi dal panico complessivo di quello che stava accadendo una volta che ci si è testi conto di questo che era accaduto la volta successiva è stato fatto tutto con molta più attenzione e questo fenomeno non si è ripetuto poi l'altro fenomeno che sicuramente è successo è che la prima volta sono stati fatti tamponi anche a persone che non dormivano lì quando si è andati la prima volta sono stati fatti all'interno della missione anche tamponi a persone che avevano avuto contatti con la missione e che si erano recati avendo saputo che dentro la missione si stavano facendo i tamponi sono andati a farsi fare tamponi dentro la missione ma poi sono ritornati nel luogo dove vivevano e in un primo conteggio che poi ripeto è stato elaborato erano stati contabilizzati come se fossero dentro ma queste persone sono rimaste in quarantena all'esterno perché avevano un luogo dove stare perché la missione non fa l'assistenza soltanto a chi vive lì ma a tutta una serie di famiglie a tutta una serie di persone che hanno magari una residenza anche non perfettamente adeguata ma che quando hanno la missione per esempio solo per mangiare a questo era stato fatto il tampone poi erano andate a casa a dormire però nel numero iniziale erano risultate come se fossero presenti alla missione sì 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 quindi sono comunque numeri da analizzare come stiamo facendo adesso sì sì ripeto i primi giorni c'era un panico complessivo una fatica complessiva poi ripeto ma subito dopo è stato postato tutta una lucidità un po' più ampia che ha permesso di identificare questo non vuol dire che non dobbiamo stare attenti a perché è un luogo comunitario dove vivono tante persone dove è più semplice contagiarse rispetto che in altri luoghi quindi tutto quello che è successo ci è servito anche per implementare meglio un sistema di attenzione che ora sicuramente ci è utile in questa fase che è peggiore di quella di un mese fa grazie assessore è stato chiarissimo se non ci sono altre domande noi la ringraziamo e ci riaggiorniamo poi per questa riunione di cui abbiamo parlato aspetto aspetto la vostra convocazione buona giornata a tutti grazie 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 il verbale di oggi è pronto ne possiamo dare lettura no presidente no non è pronto lo facciamo eventualmente domani mi ha sentito presidente mi scusi no segretario non l'ho sentita per favore può ripetere il verbale non è pronto anche per le argomentazioni fatte dall'assessore mattina che sono complesse ne daremo lettura allora la saluta di domani e conseguentemente passeremo all'approvazione quindi se non ci sono interventi da parte dei colleghi sono le dieci io vi ricordo presidente io vi ricordo che vi ho inoltrato sia delle note mandate da lo Cice le nuove a proposito di ripetere in commissione quindi se vi leggete le email ci leggeremo le mail domani ne parleremo durante la saluta di commissione e capiamo ovviamente come determinarci e presidente le ricordo sempre quel sospesso di firme perché dovrei inviare gli emendamenti alla presidenza la servirò immediatamente grazie segretario possiamo mi sembra che non ci siano interventi da parte dei colleghi sono le dieci e quaranta e dichiaro chiusa la seduta allora a più tardi arriva grazie a tutti